Grazie Facciamo parlare, Turati e anche il Club Hildelberg Quanto c'è di vero? Sono leggende metropolitane oppure... Non so se Monti ha mai fatto parte di quella associazione Della Treatola, sicuro Sì, ma della... Posso dire per il fatto che il professor Monti è stato il mio maestro L'economia politica che è persona sicuramente degna E che comunque ha fatto parte giustamente di tutta una serie di realtà importanti A livello nazionale e internazionale È stato consigliere d'amministrazione di grandi enti Quindi un capitano di lungo corso Forse espressione diciamo di una fenomenologia finanziaria di un ventennio fa Comunque ovviamente auguro al professor Monti la miglior riuscita Certamente la reazione in secondo impatto dei mercati Fa un po' pensare che ci sia qualche dubbio sulla tenuta di questo governo Nel senso che forse magari potrà durare più a lungo meno cose farà Nel senso che potrebbe fare bene a tutti Quindi allora i mercati scontano negativamente Questo siamo nuovamente sui 500 punti di spread E la borsa sta andando effettivamente nuovamente male In realtà il discorso dello spread non è poi da prendere in maniera così Come dire alchenica Perché se andiamo a rifare i calcoli Torniamo indietro dieci anni fa Lo spread fra i governativi tedeschi e quelli della lira In Italia era di 500 punti Siamo tornati a 500 punti adesso sostanzialmente Però non ci attaccavano così i mercati Ci attaccavano sulla valuta Infatti ci facevano svalutare la lira Avevamo la banca d'Italia che dava la lira Quindi il problema era solo che adesso non si può più valutare Adesso non si può più valutare Adesso hanno attaccato l'asset grosso che abbiamo noi Che è il debito pubblico E sostanzialmente il risultato è poi sempre quello Quindi non è neanche economia pura aritmetica sotto questo punto di vista Volevo tornare invece sul discorso del video che abbiamo visto prima Che effettivamente è molto 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 sopra le righe Ma effettivamente fa pensare a certe interpretazioni Che stanno comunque girando sotto tanti punti di vista Come diceva giustamente il senatore Marino prima L'Europa ha un problema di governance indubbiamente Ma il problema principale è un problema di controllo Perché questa deflagrazione che c'è stata E siamo inizio, fine e metà del 2011 con la Grecia Peraltro ci sono i nuovi problemi con la Grecia Sì ma è perché signori I controllori europei si sono fatti passare sotto il naso Un buco di 300 miliardi Non una tabaccheria E questo è un po' stano Allora io che qualcuno mi venga a fare delle pontificazioni Che si è fatto passare sotto il naso Scusate poi vanno a dire colpa di Goldman Sachs Che dieci anni fa ha insegnato loro a taroccare e fargli swap Signori miei Se non è una compartecipazione è peggio Perché allora vuol dire che evidentemente Ecco quindi qua c'è un discorso C'è un discorso che è fondamentale Allora in questo ambito qua Dove abbiamo una guerra di tutti contro tutti Perché in buona sostanza Chi è che ha avuto problemi con la Grecia? La Germania e la Francia Le cui banche hanno decine di miliardi Noi abbiamo 4 miliardi in tutto La Germania ne ha 80 La Francia 60 Sostanzialmente il problema è lì E quindi tecnicamente a loro non è andata poi così male Che ci fosse un attacco anche sul nostro debito pubblico Che andasse a fare un certo tipo di polverone Tant'è che l'operazione che è partita verso maggio Di Deutsche Bank ha scaricato sul mercato 8 miliardi di BTP Scusate se non è una dichiarazione di guerra Poco ci manca